Poco dopo le 12 di questa mattina un incidente stradale lungo la strada provinciale 45 che porta a Carignano ha visto il coinvolgimento di due autovetture ed il ferimento di una donna di Fano che è stata soccorsa dal 118 e portata per accertamenti al Santa Croce non in gravi condizioni. Le due auto sono entrate in collisione, sembrerebbe per una mancata precedenza, ma l'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dell'infortunistica della polizia locale di Fano. Una Suzuki condotta da un uomo di 77 anni di Fano stava procedendo in direzione Fano-Carignano quando passata la frazione di Fenile, superato lo svincolo per Sant'Andrea in Villis, l'uomo era intento a svoltare a sinistra verso un rivenditore di frutta e verdura che si trova lungo la strada provinciale, nel momento preciso in cui sopraggiungeva dalla direzione opposta la donna a bordo della sua Volkswagen Golf. A seguito dell'urto la Suzuki è finita anche contro un palo di proprietà del rivenditore di frutta. Per la donna è stato necessario l'intervento del 118, mentre l'uomo ha dichiarato che si sarebbe recato al pronto soccorso in seguito. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie della polizia locale, una per i rilievi di legge e un'altra per regolamentare la circolazione stradale. Grazie.